Il Presidente dell'Osservatorio Regionale sul Feromeno dell'Usura ha svolto una relazione sull'attività dell'organismo alla Commissione Consigliare Speciale di Promozione della Cultura e della Legalità del Comune di Torino. In particolare si è discusso dei progetti messi in campo dal Consiglio Regionale contro il gioco d'azzardo e a favore dell'uso consapevole del denaro.